buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di progetto anabolico nel quale esamineremo due steroidi anabolizzanti ossia il di anabol e quello che potremmo definire suo figlio ossia il turinabol ho deciso di parlare di questi due farmaci in quanto sono particolarmente utilizzati dagli atleti praticamente da sempre specialmente il di anabol iniziamo subito iniziamo dicendo che il metandrostenolone ossia il di anabol come conosciuto maggiormente è un ormone particolarmente importante e famosi in quanto viene da sempre praticamente utilizzata dai sportivi prevalentemente dai bodybuilder in quanto è stato il secondo ormone dopo il testosterone ad essere stato sintetizzato ed è particolarmente utilizzato in quanto un farmaco eccezionale specialmente per i periodi di massa in quanto cicli di tre quattro settimane sono riusciti a fornire le atleti dei guadagni di massa muscolare di forza sorprendenti parliamo anche di 28 kg quindi un range molto ampio ma che fa capire la portata di potenziale che ha questa sostanza anche il di anabol è uno steroide orale 17 alfa alchilato il che significa che è stato modificato in posizione 17 al fine di poter sopravvivere al metabolismo di primo passaggio nel fegato e quindi come anche lo sandrolone di cui vi ho parlato nello scorso video è uno steroide orale citoepatossico quindi è molto pericoloso per la salute del fegato però oltre alla tossicità epatica questo ormone purtroppo comporta anche un'altra serie di effetti collaterali come ad esempio la tossicità renale l'ipertensione l'allopecia la retenzione idrica che in questo caso in generale come tutti gli steroidi ma nel caso del di anabol parliamo di una retenzione idrica particolarmente intensa molto forte e vi è anche un problema che è molto accentuato sia la diciamo la soppressione dell'asse hpta ossia per asse hpta intendiamo dire l'asse ipotalamo ipofisi testicoli quindi un ciclo di di anabol tende a ridurre drasticamente la produzione endogena di testosterone inoltre gli utilizzatori di di anabol tendono anche a manifestare ulteriori problematiche come l'acne il mal di terza e l'irsutismo ora come vi ho detto da diversi studi è emerso che il di anabol produce degli incrementi di massa muscolare in poche settimane veramente notevoli dalle due alle dai due a otto chili nonché di forza tuttavia purtroppo questo notevole aumento di peso è determinato prevalentemente dalla retenzione idrica ed è particolarmente interessante questo prodotto in quanto è uno di quei pochi farmaci che non sono nati per scopi terapeutici cioè gli di anabol non è stato mai utilizzati in ambito terapeutico ma è nato proprio per poter aumentare le performance di forza e la massa muscolare quindi potremmo definire uno di quelli steroidi nati letteralmente a beneficio se così possiamo dire degli atleti e non per motivi medici come viene utilizzato questo prodotto generalmente il di anabol viene utilizzato con una dose negli uomini che oscilla tra i 10 e 100 milligrammi al giorno sottolineiamo anche che il di anabol ha un invita al quanto bassa parliamo di 6 8 ore nel momento dell'assunzione quindi generalmente gli atleti tendono ad assumere questo prodotto spalmandolo nell'arco della giornata e non in una singola dose generalmente più nello specifico vengono suddivise le dosi in tre porzioni giornaliere questo per poter mantenere i livelli del dell'ormone stabili durante tutto il corso della giornata ed è abbondantemente documentato che sia uno degli steroidi maggiormente utilizzati dagli atleti ce lo dicono le statistiche dei test anti doping in cui risulta essere tra gli steroidi più più rintracciati ed è un fattore particolarmente interessante considerando che questo farmaco diciamo ha un tempo di rilevamento relativamente molto breve ossia di 6-8 settimane quindi implica che i culturisti e gli atleti tendono ad utilizzarlo con una certa continuità bodybuilder tra l'altro tendono ad utilizzare questo farmaco solo nelle prime tre settimane di ciclo anabolizzante proprio per poter minimizzare gli effetti collaterali derivanti dall'assunzione di esso e comunque trarne dei benefici viene poco tollerato dalle donne essendo comunque un prodotto particolarmente potente e che causa effetti altamente virilizzanti per quanto concerne invece il turinavol è uno steroide orale sviluppato a germania dell'est per gli atleti ed è uscito di produzione negli anni 80 in pratica da quando l'anti doping ha iniziato a sviluppare i test di rilevamento questo farmaco è un derivato del dianabol potremmo ritenerlo il figlio del dianabol ed entrambi sono quindi 17 alfa alchilati per poter sopravvivere al metabolismo del fegato e quindi entrambi hanno una certa epatossicità tuttavia il turinavol presenta un'attività androgena molto inferiore rispetto al dianabol la differenza chimica sostanziale che vi è tra i due steroidi in questione sta nell'aggiunta nel turinavol di un cloro nella posizione 4 il turinavol pare che non aromatizzi e non viene convertito in dridrotestosterone e per questa ragione presenta una bassa androgenicità tra gli effetti collaterali che dobbiamo segnalare in relazione all'assunzione di questa sostanza e gli aumenti di del tempo di coagulazione del sangue che può comportare una serie di problematiche come le emorragie e le pistassi è anche importante aggiungere che nonostante il turinavol sia uno degli steroidi più basso profilo androgeno e nonostante questo non venga convertito in dht esiste un caso documentato di tumore ai testicoli causati dall'uso di questo steroide si presume che i dosaggi che vengono utilizzati dagli atleti siano di 10 barra 40 milligrammi per le uomini e di 5 15 milligrammi per le donne questa sostanza è più attiva una in vita più lunga rispetto a suo padre ossia il diabol ossia 16 ore e viene rintracciata per sé settimane quindi diciamo che ha una in vita quasi doppia rispetto al diabol mentre i tempi di rilevamento sono più o meno simili detto ciò questo video è finito se vi è piaciuto continuate a seguirmi lasciate un like attivate le notifiche al fine che io possa produrre un nuovo video a presto